Ciao, io sono Orazio Ferniani, un semplice cittadino, mi piace di pensare esattamente come i servi della gleba di una volta e c'ho dentro di me la rabbia che avevano i servi della gleba una volta. La rabbia del riscatto. Vi voglio solo dire una cosa recentissima che ci riguarda e riguarda il tema di questo incontro. L'altro ieri ho ricevuto l'atto di citazione di notifica del domicilio, cioè io sono stato insieme al dottor Giorgio Vitali indagato, sono indagato per aver utilizzato uno degli articoli di Costituzione che però vengono o disattesi o disapplicati o del tutto elusi. Io ho manifestato il mio pensiero, ex articolo 21, della Costituzione andando a denunciare una banda di delinquenti che risiede in Parlamento in questo momento assolutamente illegali, illecitamente eletti, che hanno con l'apporto della partecipazione attiva e della proposta di legge dei grillini che si dicono contestatori e rivoluzionari, che hanno sovvertito il testo e le modalità dell'azione dell'articolo 21, nonché di tutti i vari trattati internazionali sulla libertà e sul diritto della libertà di pensiero e quant'altro. Noi abbiamo denunciato attraverso una querela questo atto illegale compiuto contro la Costituzione da parte di tutto il Parlamento che ha votato questa infame legge e invece di essere agevolati nella nostra denuncia dai procuratori che si sono interessati della questione perché abbiamo interessato tutti i 137 procure della Repubblica e quindi non solo non ci hanno fatto ponti di gloria e incensamenti ma addirittura ci hanno attaccato. Questo per dire che il cittadino oggi non ha più nemmeno la libertà di pensiero, dell'espressione e quant'altro. Voglio solo dire, anche di denuncia certamente Giorgio, allora i punti di cui volevo fare semplicemente l'indice perché il tempo purtroppo è tiranno, il primo è questo, il secondo è quello della disparità di trattamento che prima diceva il dottor Petrino e cioè noi abbiamo le banche che vadano circa fra i 700 e i 1000 miliardi all'anno di euro. Avete capito bene? 700 e 1000 miliardi l'anno, molti di più di quello che ha detto Petrino che ovviamente ha un suo giro di connivenze e di amicizie che non ci riguardano. No, 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 nessuno attacco, ognuno ha il suo orticello che coltiva, anche io e quindi io difendo gli interessi del mio orto. Allora per concludere volevo soltanto ricordare che senza attendere le banche o la politica che legiferi a favore di questo o di quello ricordo che non solo l'articolo, la legge 130 del 1999 è da eliminare, ma è da eliminare praticamente tutta la legiferazione che è stata fatta dal 1943 ad oggi perché il governo e tutti i governi e la commissione di creazione della Costituzione è stata fatta sotto la spada di Damocle di un conquistatore dentro il territorio nazionale, non ce lo scordiamo mai. e volevo solo ricordare un'ultima cosa e cioè io faccio a luce e faccio cognizione di causa per chi la vuole sapere a proposito della libertà di emettere moneta da parte del semplice cittadino. Chi vuole va a trovare su internet la cambiata sociale e trova tutte le informazioni che occorrono. Grazie mille, scusate se vi ho disturbato. Grazie Orazio, a te. Grazie 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 a tutti